Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono Tony Gamer e oggi vi spiego come collegare un semplice controller della Switch a Steam Quindi il metodo è semplicissimo, basta che aprite Steam, una volta aperto Steam, o schiacciate la casetta che sta sul controller Oppure andate qua sopra e si aprirà questa schermata tipo, vorresti giocare direttamente sul tuo divano con il tuo controller? E certo, ora questa è come se fosse la schermata della Playstation quando andate qua, libreria, i giochi, cose così Quindi se adesso vado sopra, clicco su impostazioni, impostazioni del controller Eccoli qua, qui possiamo selezionare qualsiasi controller che esista in questo mondo Quindi spegne l'uscita di Picno, con versione Playstation, Xbox, Switch Pro, Nintendo Ok, quindi ho messo così, configuratore, Switch Pro, usa i layout e i pulsanti Nintendo Sì, tempo per lo spegnimento del controller, decidete voi, ho messo mai Ok, adesso faccio una breve, ok, calibra identifica Ok, con identifica vibra il controller, calibra invece C'è la blocca di animazione con il joystick, quindi questo non vi serve Ok, usciamo, usciamo, e per chiudere facciamo così Esci da BigP2, ok, perfetto Quindi ragazzi, il video finisce qui Una breve guida su come collegare il controller della Switch su Steam Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao Ciao Ciao